Berlusconi dice che siete dei traditori. Ma siamo colleghi nel tradimento allora, perché ricordo al Presidente Berlusconi, con l'affetto di sempre, che noi eravamo tutti popolo della libertà e abbiamo cambiato partito. Loro sono diventati Gruppo Forza Italia, noi siamo diventati Nuovo Centrodestra. Noi sosteniamo questo Governo alla luce del sole, abbiamo votato e avuto la fiducia in Parlamento nella Casa degli Italiani, loro la fiducia l'hanno avuto da parte del loro partito a via del Nazareno e sostengono il PD sulle riforme. Mi sembra che purtroppo su questo Berlusconi non abbia le idee chiare. È un po' con il Governo, un po' senza il Governo, è un po' traditore e un po' non è traditore.